Un buongiorno giostra dedicato ad una rassegna stampa, davvero tutta l'insegna della vera e propria ripresa per Arezzo, visto lo spazio dato alla giostra del Saracino ma anche alla fiction Fosca Innocenti che si incrocerà proprio con la giostra. La nostra Valentina Marconi è andata invece a conoscere meglio i famigli, ovvero come li ha definiti scherzando i badanti del Buratto. Il mio primo ingresso in piazza durante le prove è nel 2002 perché ci fu l'esigenza da parte dell'istituzione giostra di inserire una nuova figura che era il famiglio di riserva. Io vengo dalla Signa Rezzi, nel 2016 Andrea Siste è andato a fare il cancelliere, quindi c'era l'esigenza di un altro famiglio e diciamo che presero dalla Signa Rezzi, quindi dai fanti del comune, chiestero chi era disponibile. E quindi io mi resto disponibile e poi alla fine scelsero me. La nostra giornata dedicata alla giostra proseguirà con l'aperitivo di giostra in diretta.